Matteo Salvini, vincitore indiscusso alle europee, in Toscana viene polverizzato alle amministrative. Su 189 comuni al voto, 130 sono i sindaci già eletti in quota o di aria centro-sinistra, Firenze compresa, dove il sindaco uscente Dario Nardella, centro-sinistra, stravince al primo turno con il 57% su Baldo Bocci, centro-destra, 24,8%, terza Antonella Bundu, quella più a sinistra. A Prato invece si dovrà tornare alle urne il 9 giugno, la sfida è tra Matteo Biffoni, sindaco uscente del centro-sinistra con il 47,2% e Daniele Spada, del centro-destra, che parte di svantaggio con 35,1%. Nella città Laniera, dove predomina il tema della sicurezza, terza forza del Movimento 5 Stelle, che risente del calo generale, si ferma al 7% con il suo candidato Carmine Maioriello. Ballottaggio anche a Livorno, dove crolla il Movimento 5 Stelle dopo Nogarini, il duello è tra Luca Salvetti, centro-sinistra, che raccoglie il 34,4%, e Andrea Rumiti, centro-destra, con il 26,6%. In provincia di Firenze sarà ballottaggio a Borgosa Lorenzo, dove il sindaco uscente Paolo Omoboni, centro-sinistra, ha preso il 44,2% contro il 22,5% di Luca Margheri della Lega. Ballottaggio anche a Fillina e Incisa, dove Giulia Mugnai, del centro-sinistra, prende il 34,4% davanti a Silvio Pittori, del centro-destra, al 25,5%. Assigna ballottaggio tra Giampiero Fossi, del centro-sinistra, e Vincenzo De Franco, del centro-destra. In provincia di Livorno, a Capolivori, Isola d'Elba, un ballottaggio anomalo. La sfida è tra Andrea Gelsi, vice-sindaco uscente alla guida della lista civica di area moderata Capoliveri-Bene Comune, e Walter Montagna, consigliare di maggioranza leader dello schieramento civico trasversale, competenze e valori per Capoliveri. Si è conclusa in perfetta parità e si dovrà rivotare il 9 giugno, al ballottaggio, nonostante il comune sia inferiore ai 15.000 abitanti. Si andrà al ballottaggio a Colle Salvetti, tra Adelio Antolini, del PD, e Anna Ornella Berretta, del centro-destra. A Piombino, la Lega costringe il PD al ballottaggio, un risultato che premia la coalizione di Francesco Ferrari, avvocato penalista piombinese, sostenuta tra gli altri dalla stessa Lega e da Fratelli d'Italia. A Rosignano Marittimo, il PD viene costretto al ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra, Daniele Odonati, e Donatella Di Dio, del centro-destra. In provincia di Pistoia, ballottaggio ad Aliana, ed è la prima volta. Partirà in vantaggio Luca Benesperi, del centro-destra, davanti a Massimo Vannuccini, del PD. Anche a Monsumano Terme, per la prima volta si va al ballottaggio. Si sfideranno Simona De Caro, cento-sinistra, con il 39,2%, e Giuseppe Mignano, 24,1%. Colpo di scena a Montecatini Terme, dove Luca Baroncini è il nuovo sindaco. Il comune viene conquistato dal centro-destra al primo turno con il 57,8%. Ennio Rucco, già vice-sindaco nella giunta Bellandi, sostenuto dal centro-sinistra, si ferma al 32,15%.